Questo Platone è il quale ha inventato l'anima. L'anima non appartiene alla cultura giudaico-cristiana. I giudei non avevano la più pallida idea di anima e tantomeno i cristiani. Ne è prova il fatto che i cristiani, nonostante siano convinti di avere un'anima e che quest'anima sia immortale, quando recitano il credo, cosa dicono? Non credono nell'immortalità dell'anima, ma nella resurrezione dei corpi. Perché il cristianesimo è innanzitutto incarnazione, è il figlio di Dio che si fa uomo, che nasce, cresce, predica, muore, risorge. È una religione dei corpi, attestato anche dall'iconografia. Se è vero che solo le chiese cristiane rappresentano corpi nelle immagini che noi ammiriamo nelle chiese, mentre le altre due religioni monoteiste, l'ebraismo e l'islam, non prevedono corpi nei loro templi. Le sinagoge hanno semplicemente delle citazioni tratte dalla Bibbia, così come le moschee hanno citazioni tratte dal Corano. Successivamente, a partire dal 400 d.C., Agostino preleva la nozione di anima da Platone e la inserisce però in un altro scenario. Platone l'aveva introdotto per un problema di conoscenza, per giungere ad una conoscenza universale e valida per tutti. Agostino la trasferisce in un altro scenario che è lo scenario della salvezza. Per cui, oltre al corpo, noi abbiamo un'anima, il corpo è corruttibile, l'anima è incorruttibile. Nell'anima si rivela, dice Agostino, Cristo, Dio, la verità e organizza anche una visione della società come città terrena che al pari del corpo è corruttibile e una città celeste incorruttibile ed eterna. Questa impostazione di Agostino è diventata la forma con cui ancora oggi pensiamo di avere un'anima e un corpo. In realtà, nella tradizione cristiana, questa concezione dell'anima proprio non ha giustificazioni.